non cerchiamo di giocare con un mare in mano giovani di due anni finivo che mi devo mettere con la testa sulla tua faccia perché sennò lui non sapeva gestirsi io guarda la sicurazione per il cane non l'ho mai usata così ti combinavo le cose più impegnate se fosse qui adesso lui va nel punto più nascosto ma lui non è attaccato a prendere invece poi c'è un'altra no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.